Non è mai troppo tardi per essere chi vuoi essere frase stupenda tratta da un bellissimo film non so se ve lo ricordate il curioso caso di Benjamin Button quello con Brad Pitt Allora stamattina il mindset vuole andare a colpire quelli che come me, tante volte, devo dire la verità pensano che sia già passato il proprio tempo quelli che, no, oddio, non ce la posso fare adesso lo dovevo fare dieci anni fa, sono in ritardo non posso iniziare questo tipo di percorso perché ho già 39 anni quindi sarebbe già fallimentare cioè tutti dei discorsi legati al tempo perché non ci sentiamo mai all'altezza in quel momento lì di fare una cosa allora per caso sono andato a riprendere un testo, un estratto da un discorso dal film Il curioso caso di Benjamin Button non so se ve lo ricordate quello con Brad Pitt dice Per quello che vale non è mai troppo tardi per essere chi vuoi essere non ci limiti di tempo, comincia quando vuoi puoi cambiare o rimanere come sei non esiste una regola in questo possiamo vivere ogni cosa al meglio o al peggio spero che tu viva tutto al meglio che tu possa vedere cose sorprendenti spero che tu possa avere emozioni sempre nuove spero che tu possa incontrare gente con punti di vista diversi bellissimo spero che tu possa essere orgogliosa della tua vita e se ti accorgi di non esserlo spero che tu trovi la forza di ricominciare da zero questo per dire che cosa? che se abbiamo un'idea, un progetto imprenditoriale se vogliamo integrare nuovi prodotti, servizi se vogliamo fare la differenza se vogliamo fare uno scatto di livello se vogliamo veramente svoltare oggi non c'è problema non perdere tempo decidiamolo non è mai troppo tardi per essere chi vogliamo essere ciao spingere sull'acceleratore e andare ricordatelo sei numero uno ciao